Francesco Solimo ha tutti i documenti per far rientro a Santersegno. Il Tribunale di Caracas ha messo in esecuzione la sentenza di rimpatrio del bambino e lo ha riconsegnato al padre Sergio, a cui la giustizia italiana lo ha dato in affidamento. Ieri i due si sono finalmente potuti riabbracciare, non lo facevano ormai da cinque anni, da quando cioè la madre del bambino, di otto anni, lo ha portato via con lei in Venezuela, facendo perdere le sue tracce. Gli investigatori assunti dal marito mercoledì scorso l'hanno ritrovata insieme al figlio. Nel giro di 44 ore Sergio ha raggiunto Caracas, ha ottenuto l'autorizzazione della giustizia venezuelana a riportare in Italia Francesco e dal consolato italiano il passaporto per il bambino. Il suo avvocato Enrico D'Amato ha già provveduto ad acquistare due biglietti per Roma. Stanotte dovrebbero imbarcarsi e sabato mattina a Terraria a Roma, dove ad attenderli ci saranno amici e parenti. Poi il viaggio verso San Tersegno, dove sono in corso i preparativi per raccogliere nel migliore dei modi padre e figlio di nuovo insieme dopo cinque anni. Disperata la mamma, che davanti ai giudici venezuelani ha tentato con tutte le sue forze di evitare il rimpatio del figlio. Non si sa se anche lei raggiungerà l'Italia, dove però ha una serie di conti in sospeso con la giustizia per i reati commessi proprio per la sua fugga con il figlio in Venezuela, suo paese d'origine. Nel 2009 partì per una vacanza di piacere con il piccolo e poi fece sapere al marito che non avrebbe fatto più rientro in Italia. Dopo una serie di cause il padre è riuscito ad ottenere in affidamento il figlio, ma fino a mercoledì scorso non ha potuto far valere il suo diritto, perché la moglie aveva fatto perdere le sue tracce proprio per evitare che gli portasse via Francesco. Di qui la decisione di Sergio di affidarsi ai detective privati, che nel giro di pochi mesi hanno soddisfatto la richiesta del loro cliente. Sergio chiede solo di poter vivere con Francesco, non intende fare guerra all'ex moglie alla quale ha già fatto sapere che potrà vedere il loro unico figlio quando lo vorrà.